Io sono nata in un'epoca nel 35 e dunque quando avevo 20 anni era direi obbligatorio sposarsi e avere dei figli e io ho sempre sentito questa problematica, questa necessità assoluta per le femmine, per le donne, in un certo ambito medio borghese, questo fatto di dover avere i figli come il completamento di se stesse mi sembrava un limite pazzesco, mi terrorizzava.